Ambientazioni. E questo è il titolo del festival per bambini promosso dal Comune di Bellizzi in collaborazione con Sarim, che punta a sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale. Arte, gioco e spettacolo al servizio dell'ambiente. Eventi rivolti a bambini, giovani e meno giovani, cittadini e turisti coloreranno ed animeranno Piazza del Popolo a partire dalle ore 18 di venerdì 20 luglio, con azioni volte a sensibilizzare le coscienze su diverse tematiche ambientali. Ambientazioni è la scoperta per i bambini di un mondo sostenibile, ispirato all'agenda ONU 2030, attraverso intrattenimento, laboratori e spettacoli su raccolta differenziata, energia, acqua, sostenibilità, clima, integrazione, mobilità ed alimentazione.